Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video dove oggi vi spiegherò come attivare una console di Medanofono Airborne. Dovete sapere che per attivare questa console non c'è bisogno di fare per forza così, cioè di andare in proprietà, andare qui e scrivere questo. Molto spesso non funziona, perciò cosa si deve fare? Si deve andare su documenti, EA Games, Medanofono Airborne e Config, poi dovete andare su MOA Input.ini, che sarebbe questo qui, vedete? Il tasto Thin a volte non funziona. Quindi cosa fare? Dovete scrivere questo, ovviamente questo sarà scritto nella descrizione. Ecco qua, salvate e in teoria la console sarà attiva. Ricordatevi però che a volte potrebbe eliminarsi questo comando che avete aggiunto. Quindi salvatevi ciò che avete visto da qualche parte di un documento di testo, così nel caso non dovesse più funzionare il tasto tab per la console, sapete dove andare e cosa fare. Adesso vi faccio anche vedere. Allora. eccoci qua, vedete? Premendo il tasto tab avremo la console command, vedete? Eccola qua. Eccola qua. Va bene ragazzi, il video vi c'è qua, spero che i video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettere un mi piace e commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.